Ed è il centrodestra con la lista autonomia e identità a vincere le elezioni provinciali a Disernia, 566 voti ponderati contro i 369 del centrosinistra. È stato il centrodestra con la lista autonomia e identità a vincere le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale a Disernia con ben sei seggi conquistati, quattro invece quelli che sono andati al centrosinistra alla lista insieme per la provincia a Disernia. Entrano così in consiglio per la fazione Vincente, Manolo Sacco, Linda Dall'Olio, Anna Barile, Nicola Di Biase, Claudio Falcione e Domenico Chiacchiari. Per il centrosinistra faranno parte dell'assise Candido Paglione, Franco Marco Vecchio, Sara Ferri e Giuseppe Centracchio. Tutti i neo eletti andranno ad affiancare il presidente della provincia, Daniele Saia, nominato lo scorso novembre. Quanto all'affluenza alle urne, il dato è positivo. Sui 620 diritto hanno votato 503 amministratori, che equivale all'83,8%. In particolare di questi, 440 rientrano nella fascia A, ovvero nei piccoli centri, mentre 50 sono di fascia D, ovvero dei comuni Disernia e Venafro, e infine 10 di fascia B, ciò significa di agnone. In sintesi, il centrodestra ha ottenuto 566 voti favorevoli ponderati contro i 369 della coalizione opposta. E per la terza volta consecutiva il sindaco di Pesco Lanciano, Manolo Sacco, è risultato primo eletto. Nel centrosinistra ad ottenere più preferenze è stato il primo cittadino di Capracotta, Candido Paglione. Grazie. Grazie.